Salve a tutti ragazzi e ben ritornati su Pokémon Glazed Continuiamo la nostra avventura andando nella isola mancante che è Nitro Isol E... andiamo diretti, andiamo avanti Andiamo avanti, ricarichiamoci, subito No! Ok, ehm... Benissimo, ehm, andiamo avanti Ho la bicicleta! Benissimo, allora, una sfida, oddio, qualcuno che sta utilizzando un Jolteon contro uno schermori Veramente messo KO E ora... andiamo avanti Ok, chi sei tu? Torna qui Ok, dobbiamo sfidare questo tizio Che è... Tai Oh no, un altro con le evoluzioni... Divi? No Aro Spearboom Poi c'è Flareon, Flareon Utilizziamo Swampert, allora Utilizziamo Swampert Che ho sbagliato Mossa E non l'ha messo KO appropriatamente Poi c'è Umbreon Mettiamo Lucario, allora Contro Umbreon mi serve Lucario Sì, 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 sì Utilizzo Aura Spear, che è super efficace E Umbreon KO Poi c'è Vaporeon, 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 Vaporeon Ehm... Oltraggio Beh... Ok, ultimo Pokémon Che è Jolteon Che utilizza Fulmine Ma mi fa ben poco E io metto K-Botai Ehm... Dico Jolteon e anche Tai Comunque Ci incontrerà di nuovo da qualche parte Benissimo, va bene Così ti rompo il culo una seconda volta Ehm... Ok, ricarichiamo la squadra Andiamo avanti Inoltre, inoltre, inoltre Ehm... Andiamo a vedere questa città Uh, c'è un cartello qua Cos'è? Powell's House La casa di Powell Watson Sai chi sono? Il mio nome è Watson Sono un cavale estero Nella regione di Owen I mean... Would you bet me? Ok, va bene Sfida anche te Non è un problema Uh, il tizio Ecco, non riuscivo a capire chi era Walter Era Walter, no? Il nome Sì Sembra di sì Ok La prossima scelta è Raichu Terremoto Bam Poi, eh... Electrode Utilizziamo un altro terremoto Yeaaah E poi c'è Maison Un altro terremoto E non sei fortissimo contro i miei balcamone E terremoto Benissimo Interessante Allora Oh interessante La casa di Thor Chi sei tu? Oh sei uno degli amici di Thor È alla palestra Ora È meglio se lo vai a trovare là Va bene Dunque Devo No Scusa me la posso ricaricare Ok cos'è? Oddio Round one Ocean Wine or bag Battle of luck Battle of luck Poison Poison heal Benvenuto alla palestra di Thor Stai aspettando una palestra elettro? No Thor attualmente alena come di tipo veleno Devi risolvere tre puzzle per sfidarlo Ok Barrel and badge look the same Barrel number is the same Or start eyes and simple wine Test bottle Bottle shine Assaggia la pozione Non è successo niente Left Ah le poste sono state aperte Benissimo A volte è stata chiusa dietro di me Allora Extreme senti tu o tuoi Middles More than you can bear Poison no more in a row But two away And back you go If you reach in for a fight Shows the fourth Fourth on the right Quindi destra no? Quindi sinistra Ma come? Stai scherzando? E li ha avvelenati tutti Ma è brutto figlio di Troia Vabbè Adesso me li ricarico Ma è brutta testa di minchia Come ti sei permesso? Outrage E Outrage Ok Ora Dobbiamo ricaricare la squadra E capire Aia Scusate il telefono mi è partito E capire che cosa Cavolo è No Sbagliato Ah si Quelle stai qua le compro Non è un problema Comunque utilizziamo anche Revitalizzante Su Oregon Con attuazione max Cosa sto facendo? E ancora Per la scienza Forse non è la Non è la stanza giusta Ah Ho capito Perché se io continuo A premere left Probabilmente continuo A arrivare questo tizio qui A sfidarmi Quindi probabilmente Devo andare indietro In quella destra Ah Ho capito Quindi Oh Che ci fai te qui? Quindi se io bevo sinistra Ma che ca... Ecco un altro bug Allì Cominciamo bene Ok Scusate per questo Piccolo bug Non volevo Cioè non sapevo Più che altro Che sarebbe presentato Quindi state sereni Adesso andiamo avanti Probabilmente Fammi andare via Fammi andare via Ma io voglio uscire Da qui Ricoglioniti Va bene Sto avvenati Non è un problema Basta che mi fai uscire da qui Ancora No Non dimmi che si è Buggato qui Sono ancora qui E non capisco cosa devo fare Soprattutto perché Porca miseria Ogni volta Stai cazzo di Dai Fami andare via Testa di merda Oh Uno Due Tre Quattro No Ah Ho capito Ok Allora era giusto Quindi dobbiamo Vabbere questa pozione Non lo so Qua me lo chiede Ok È stato avvelenato L'intero L'intera squadra Ancora Ecco Ci mancava solamente Lo sfidante Perfetto Three attack Eeeh Mi ha distrutto Molto bene Outrage E un altro Outrage E mettiamolo K Dai Scusate Ho dovuto Veramente Ricaricare Un attimino Perché altrimenti Non sapevo Cosa avrei dovuto fare E Probabilmente Funti Oh Uso queste Ok Perfetto Anche se posso Ricomprarle Però Dai Adesso Un attimino Ce le teniamo Buone Explosion Non ho capito In realtà Quale dovevo bere Abbiamo questa Non è successo niente Malissimo No Mi ha ricaricato Benissimo Oh Va bene Si è aperta la porta Era ora Oh Madonna Eccolo qui Thor Un'altra Che cacca Che è arrivata Attraverso la mia palestra Che felicità Comincio a Ricredere di aver fatto Questa dannata palestra Comunque Bla bla Sono Thor Alleno Pokémon Ti dipo Veleno Ti prenderò Calci in culo Eccetera Eccetera Just send Out Your first Pokémon So we can get over it Questo mi sa Che gli devo Fare un po' il culo Il primo Pokémon Che manda È Crobat Mentre io Porygon Guarda un po' Com'è bello Fare gli stronzi Guardate Guarda lì Bam Thunderbolt Paralizzato Oh Povera stella Io te ne faccio un altro Allora per sicurezza Ciao Crobat Come ti senti ora Come ti senti No dimmelo Come ti senti Sono interessato Ecco su Ampert E lui manda Toxicroak Che mi sa che durerà ben poco Con il mio terremoto Boom Dato che è Super efficace E Toxicroak ci saluta Possiamo scelta E Gengar Purtroppo possiede L'abilità Levitazione Quindi Devo Utilizzare Shadowbow Sì chi No aspetta Non avevo Sì no Era di porno Chiedo scusa No Ho fatto una cazzata Oh yeah Ho fatto la cazzata Utilizziamo Oltraggio Boom Boi c'è Nidoking Oh Nidoking Oh shiny Carino Ma oltraggio Ma quanto cazzo è potente Tutti le ha massacrati Tutti Tutti L'ultima scelta è Venusauro Che ovviamente Mette a marca 9 E Fireblast No Ha fallito Figlio di infame Full heal Ah Leech Seed No dai No Porca trotto 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 Non dico parole No Che infame Attaccalo Ok super efficace Allora Thor Chi era forte Non mi sembra te Hai vinto Scommetto che non sei così male Allora Dammi il tuo rancor ticket Ah c'è il tuo rancor ticket That will get you to call Isl Riki out to take care of you there Take these two MT6 Toxic All right That's everything Now get out of here Don't let the door hit her What the fuck was that It's not light was coming from it Mont dino Cosa sta succedendo Al monte Al monte Cosa succede Minchia ma sta crom non finisce più ragazzi Andando a ricaricare la squadra Ah si si Bene ragazzi Noi Andiamo a vedere al monte Cosa sta succedendo Ma lo faremo nella prossima parte Perché questa è finita Spero che vi sia piaciuta Se vi è piaciuta Mi piace Un saluto a te Ciao 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 Ciao